Il tumore del polmone è una delle prime cause di morte nei paesi industrializzati con oltre 2,2 milioni di casi all'anno nel mondo. La mortalità è la più elevata tra tutti i tumori con quasi 1,8 milioni di decessi pari al 18 per cento di tutte le morti per cancro. Tradotti questi numeri dicono che le persone che nel mondo muoiono per cancro al polmone sono quasi lo stesso numero di quelle che muoiono per tumore al seno, alla prostata e al colon retto sommate insieme. In Italia, secondo il Ministero della Salute, questa neoplasia è la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne, con quasi 34 mila decessi nel 2020 e un tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi del 16 per cento negli uomini e 23 per cento nelle donne. Marco Klinger ha intervistato per il format tv medicina top prodotto dall'Italpress, Marco Aloisio, responsabile della chirurgia toracica e generale dell'Istituto Clinico Humanitas di Ruzzano. Nel mondo occidentale perlomeno è sicuramente il tumore a quello più alta mortalità, sia nel sesso maschile che in quello femminile e riconosce sicuramente una causa fondamentale che è quella del fumo di sigaretta. Purtroppo questo è un fenomeno preoccupante, ma non solo. Ci sono degli agenti chimici, ci sono degli inquinanti, l'inquinamento atmosferico, gli agenti chimici quali monossido di carbonio o gli idrocarburi policiclici aromatici. Sono tutte cause e con cause che messe assieme creano questa patologia, patologia neoplastica che è ad altissima incidenza e ad altissima mortalità. E' in crescita oltretutto, perché i numeri non si riducono. I numeri sono in crescita e mi spiace dirlo, sono più in crescita nella popolazione femminile ma soprattutto nei giovani. Marco, ma questo come lo si spiega per esempio? I giovani cominciano a fumare a 13 anni e questo è un fatto che noi pur andando nelle scuole, pur dando delle informazioni a tappeto, c'è una giornata mondiale contro il fumo di tabacco e altro, sono informazioni che comunque non penetrano. Per favore non fumate. Però indubbiamente assieme agli screening, quelli salvavita dei big killer che sono la mammografia per il tumore della mammella, il pap test per il tumore del collo dell'ut, la colonoscopia per il tumore del collo retto, aggiungiamo nei fumatori e negli ex fumatori l'attac spirale senza mezzo di contrasto. Con questo sistema noi abbiamo avuto una riduzione della mortalità per tumore del polmone. Perché li ha anticipati in qualche modo? Del 20%, li prendiamo di più, il 60% li prendiamo al primo stadio, vuol dire chirurgia più gentile in questa nostra fase delle conoscenze. Sì, perché ti confesso che si sente sempre più spesso parlare di chi in fine dei conti, soprattutto nei tempi moderni, ha fatto degli interventi chirurgici e ancora qualche anno dopo lo può raccontare. Chiaro una cosa Marco, che invece in passato tu vieni all'istituto dei tumori, era meno frequente di sicuro. Assolutamente, ho vissuto tutta questa storia, devo dire che in questo momento ho un certo ottimismo. Grazie a tutti.